No, no, e tanto io non so quello... Non fai niente, tu fai parte dello Stato? Sì. Come ti è sembrata la manifestazione? Una cosa interessantissima e piacevolissima, sia nell'organizzarla che nell'eseguirla penso da parte dei partecipanti. Ma è la prima volta che partecipi? Sì. Ci puoi spiegare insomma come vengono organizzate queste manifestazioni e se è il primo anno che si organizza questa cacciata? Il primo anno che viene fatto, speriamo che ce ne sia stato, e l'organizzazione è stata molto molto difficile, impegnativa soprattutto per i ragazzi che hanno partecipato. Quante tappe ci sono state? Dieci tappe. Ci puoi illustrare un somma un po' con le tappe che ci sono state? Mi dispiace, sono top secret. Va bene, la ringrazio, facciamo un saluto agli amici di Campania. Ciao!